Il mio famiglio, perché il casca sta facendo un video, e poi mi fanno così per tirare l'ina svela, e noi che mi non passano per consiglio, mi continuano a far figlio, ma continuano a far facendo l'invento, hanno visto tutti, lei che cazzo vuole tirarti, vuole tirarti l'ina svela, la tiri, la tiri, tu che faccia così, non tirare il suo bambino, adesso penso che mi ha avuto raggiunto, volevo tirarti l'ina svela e le palle di mio famiglio, le palle di un famiglio, le palle di questo spazio, le palle di questo telefono, perché gli anni non possono farli, ma il mio telefono è la svela della novella, Grazie a tutti. Non mi tocchi, non mi tocchi, non mi puoi toccare, se lo metti in testa è un carabiniere, non mi puoi toccare se lo metti in testa. Non sei dei primi due carabinieri che vedo in vita mia, carabiniere li vedo da vent'anni e li ho porto. Quindi lei in vita non me li può fare. E continua, e continua. Non mi tocchi, non mi tocchi, ma non mi tocchi. Per me non mi tocchi, ma lei a me non mi può trarre, le mette, va, ocello il relojio, ocello il relojio, ocello il relojio, ocello il relojio, ocello il relojio. Sta spingendo, sta spingendo, vada piano. No, no. No, no. No, no.